Buona giornata e ben ritornati nelle studi di Teleradiopace anche in questo 24 di maggio 2023 quindi siamo arrivati alla metà della terza settimana, anzi siamo veramente nella quarta settimana, quarta intera settimana del quinto mese del 2023 Buona giornata a tutti da parte ancora di Marco Novello e naturalmente un saluto e ringraziamento anche a Luigi Cano che curerà la parte tecnica in regia in questa seconda edizione 24 maggio ci viene in mente subito la canzone appunto della prima guerra mondiale, i fanti che insomma oltrepassarono la linea del piave E adesso però andiamo a vedere quali sono invece le ricorrenze religiose di questa giornata Oggi per esempio la chiesa ricorda e festeggia nel mese Mariano di maggio Santa Maria Ausiliatrice, l'aiuto dei cristiani E ancora la chiesa ricorda e festeggia i Santi Donaziano e Rogaziano, martiri di Nantes, San Vincenzo di Lerino, San Davide di Scozia, San Simeone Silita il Giovane, Beato Giovanni di Prado, sacerdote e martire Beato Luigi Zeffirino Morò e ancora Santa Amalia, martiri di Tavio, l'apparizione della Madonna della Filetta, Agostino, Agata e compagni martiri, Beato Filippo da Piacenza, Santa Giovanna e ancora San Manen di Antiochia, San Servolo Servulo I Santi 38 martiri di Filippopoli e ancora San Zoello, tutti martiri Auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il loro Santo Patrono, la loro solennità e coloro che oggi ricordano una lieta ricorrenza, un anniversario O che festeggiano il compleanno in questo 24 di maggio, d'altronde noi di Teleradio Pace lo abbiamo festeggiato ieri, il nostro 33esimo compleanno E oggi siamo invece a parlarvi di altre notizie, ma insomma i giornali parlano anche di Telepace, poi lo vedremo più avanti Andiamo invece adesso a darvi notizie delle temperature minime della notte, siamo in un periodo di alta pressione Non so se Luigi può mostrarci le fantastiche cartoline che ci arrivano dalle nostre telecamere esterne in diretta La vedete appunto verso il monte di Portofino, una giornata decisamente buona, tra l'altro la Limet oggi ammetteva anche la possibilità di avere della Caligo In realtà la Caligo non è ancora arrivata, però la vediamo un po' sul mare, sul mare c'è una specie di formazione nebbiosa Comunque una foschia molto densa che sta un po' arrivando verso terra Non sappiamo se poi si tramuterà in Caligo sul nostro litorale come già è avvenuto qualche mese fa o avveniva anche negli anni scorsi Però sicuramente le condizioni meteorologiche sono anche diciamo abbastanza ideali per questo fenomeno Perché? Perché sul mare le temperature evidentemente sono lievemente inferiori rispetto a quelle che sono le temperature a terra Oggi andremo nuovamente su 25-26 gradi di massima, mentre le minime nella notte sono scese sugli entroterra non tantissimo 8.9 ai 1400 metri della casermetta del Penna, quindi per quell'altitudine una temperatura abbastanza elevata 5.6 gradi a Rezzoaglio Basso e 5.2 gradi a Cabanni di Rezzoaglio La minima a Casali di Borzonasca 13.8, 13.6 a Belpiano, 13.7 a San Sirofoce E ancora 15 gradi in Val Graveglia a Pontori 13.1 gradi a Favale di Malvaro in Val Fontanabuona Pezzonasca 12.1 a Tribogna 15 gradi E a Villa Orneto di San Colombano 15.5 gradi Veniamo sulla costa con la temperatura più bassa registrata nella stazione Golf di Rapallo 13.3 gradi mentre sempre a Rapallo ma sul lungomare c'erano 15.1 16.1 a Santa Margherita Ligure 16.1 anche sul porto di Chiavari 14.4 a località Berissi di Lavagna 15.5 gradi nella piazza del comune di Sestri Levante 17.2 gradi la minima di Voneglia nella spiaggia della Secca poi andiamo nel Golfo Paradiso Ruta di Camogli 16 gradi non pervenuto Sori e Bogliasco e allora andiamo a Nervi con 17.4 nella zona interna di Genova Marassi 15.1 nel Ponente più caldo a Pra 17.2 mentre invece a Savona 14.6 Imperia 16.2 e il Ventimiglia 17.5 nell'estremo Levante alla Spezia 15.9 quindi le temperature sono abbastanza in linea con la media stagionale del periodo perché non ci aspettiamo più delle minime molto basse diciamoci la verità le minime intorno ai 14-15 gradi sono quelle normali di questo periodo dell'anno per quanto riguarda le massime andremo poco poco al di sopra della media stagionale del periodo siamo ancora in una fase anticiclonica ma in cui c'è una dinamicità del tempo soprattutto nelle zone interne, negli entroterra soprattutto quelli profondi, più appenninici quindi parliamo di Val Daveto parliamo poi delle Alpi Liguri dove nel corso del pomeriggio si verificano sempre annuvolamenti e anche manifestazioni temporalesche in particolare questa sera ci sarà un passaggio diciamo un po' più appunto instabile inserata sul nord anche su zone alpine, prealpine, pedemontane quindi anche le pianure purtroppo sono attese anche piogge nelle zone già alluvionate della Romagna ma sulla Liguria questa fase diciamo non ci dovrebbe essere almeno sulla costa mentre invece qualche precipitazione nel pomeriggio potrebbe cadere nelle zone interne soprattutto del centro ponente ma di questo, insomma di tutte le previsioni parleremo meglio verso la fine del nostro appuntamento quindi parliamo delle ore 8.45 tanto salutiamo anche gli amici che da oggi ci seguono anche sul canale 78 di Telepace 3 che appunto da ieri alle 12.45 ha iniziato le sue trasmissioni Telepace 3 non si era mai fermata cioè Telepace News non si era mai fermata sui canali diciamo online sulle app, sui canali appunto internet ma adesso anche un canale di digitale terrestre il numero 78 lo abbiamo ricordato se non lo trovate è perché dovete risintonizzare il televisore ricordate appunto quella manovra che si fa c'è scritto installazione solitamente sulle impostazioni ricerca automatica dei canali dura qualche minuto e poi vedrete che appare anche Telepace al canale 78 se la zona è coperta dal servizio perché non tutta la Liguria in questo caso è coperta ancora da questo servizio del 78 andiamo del 78 sbarrato sembra di parlare di un autobus andiamo invece adesso a vedere la prima pagina di avvenire chiesa attiva nella storia così titola il quotidiano della CEI il cardinale Zuppi presidente appunto della CEI nella sua prolusione e dice così il cammino sinodale passa dall'ascolto al discernimento a battere i muri appello per la pace l'accoglienza non è alternativa al contrasto della denatalità riforme condivise e case ai giovani i vescovi riuniti per discutere il percorso di riflessione e cambiamento lotta alla mafia e solidarietà alle vittime del maltempo sappiamo che la CEI ha già stanziato un milione di euro dall'otto per mille proprio per queste zone le giuste domande la chiesa in cammino è l'editoriale di Mimmo Muolo e poi c'è un altro editoriale i problemi a occhi aperti la chiesa in cammino di Riccardo Maccioni altre notizie sempre dalla prima pagina di avvenire 2 miliardi agli alluvionati Meloni fatto il massimo coperture controverse con lotterie e vendite di beni confiscati codice degli appalti in vigore in Emilia Romagna anche il potenziamento dei rigassificatori il ministro Roccella fanno di me un nemico Schlein non copra l'intolleranza la ministra ricordate che la settimana scorsa è andata al salone del libro di Torino ma non è riuscita a parlare a presentare un libro perché degli oppositori dei manifestanti hanno invito contro di lei rendendo impossibile il suo intervento e appunto dall'opposizione sono arrivate anche voci di approvazione di questa protesta che sicuramente non è molto democratica parliamo di democrazia tutti devono dire la loro e poi al limite si vota o meno terapia del veliero per ritrovarsi l'economia civile oggi è l'inserto di avvenire e poi ancora anniversario di Capaci Mattarella Lecosche contro cancro estirpabile e ancora insulti a Vinicius Razzismo a Madrid arrestati tre tifosi questa è la prima pagina appunto di avvenire passiamo invece adesso al secolo XIX di oggi 2 miliardi per la Romagna questo è il titolo di apertura del quotidiano genovese e poi via il decreto appunto per riparare i danni e soprattutto portare un po' di soccorso e sollievo alle popolazioni stop a tasse bollette e mutui fino al 31 di agosto il Capo dello Stato tutta l'Italia solidale nel provvedimento approvato dal Governo aiuti straordinari per autonomi dipendenti turismo agricoltura Meloni non era facile appunto trovare 2 miliardi nelle pieghe del bilancio per stanziare subito perché questi 2 miliardi sono immediati poi chiaramente ci saranno altri investimenti per ricostruire il ricordo di Mattarella la mafia è un cancro ma non è invincibile Colosimo eletta presidente dell'antimafia il PD dice è una pagina nera è una deputata del Fratelli d'Italia ma la protesta del Partito Democratico pesano infatti i vecchi legami con un ex NAR NAR erano i terroristi neri c'è una sua foto insieme però insomma lei si è giustificata Ansaldo Energia giugno l'aumento di capitale perdite per 559 milioni convocata l'assemblea dei soci Genova partiti divisi sul rilancio del nucleare e poi ancora economia Spinelli i dipositi Ponte Somaglia no meglio più amare Gniecco della BPR cioè della banca che ha preso il posto della Carigia la BPR e poi così Cesare Ponti tornerà a crescere appunto il nuovo responsabile del private bank Ligure della Cesare Ponti Piber appunto la banca spiega il secolo decimono gestiamo un miliardo virgola 4 per cento di patrimoni ora vogliamo tornare a crescere e poi ancora l'iniziativa del secolo decimono tra la gente viaggio in carcere lo vedremo tra poco feste di luglio in porto a Rapallo via i preparativi addirittura si inizia a parlare adesso delle feste di luglio che ci saranno appunto nei primi mesi dei primi giorni non del prossimo mese ma di quello successivo è un po' prematuro però insomma se ne parla e ancora i legali di Castellucci all'attacco di Mion è inattendibile il processo Morandi dopo le rivelazioni dell'ex amministratore delegato di ASPI Società Autostrada per l'Italia insomma è un po' successo di tutto avete visto anche quanta eco ha avuto questa notizia sulle pagine sulle prime pagine di tutti i quotidiani intervista alla bandiera rosso-blu Crescito la vita in un rigore ho vissuto il finale perfetto e poi ancora navi passeggeri più lenti così si tutelano i cetacei sul Mar Ligure patto con le compagnie e appunto cartellone itinerante in Liguria c'è un teatro nel bosco la tosse scende dal palco per addirittura allestire delle diciamo così situazioni all'interno di boschi dell'entroterra della nostra regione un esperimento che è già stato portato avanti con successo nei mesi scorsi e quindi si procederà nuovamente anche nella prossima estate a questo punto entriamo nelle pagine interne del secolo XIX abbiamo visto appunto l'iniziativa il secolo XIX tra la gente viaggio in carcere dalla prima pagina del secolo appunto andiamo oggi alla prima diciamo così uscita della redazione chiavarese del secolo XIX nelle realtà del nostro territorio e ieri appunto tutta la riunione tutta la appunto la redazione del Levante del secolo XIX si è riunita all'interno del carcere della casa circondariale di Chiavari è stata alla casa circondariale di Chiavari la prima tappa del nuovo progetto che abbiamo messo in campo che hanno messo in campo appunto quelli del secolo una riunione di redazione con i detenuti La vita oltre il muro qua ci sono alcuni protagonisti del carcere come la direttrice Paola Penco a Stefano Bruzzone delle guardie carcerarie e poi ancora Don Fausto Brioni e Giovanna Firenze il sostegno alla genitorialità e il dopo carcere e gli obiettivi prioritari emersi dare opportunità di reinserimento a chi esce di qui dopo aver scontato la pena stando qui deve mancarti ciò che di più caro hai perso le voci delle persone che stanno scontando un periodo di reclusione dicono appunto alcuni di loro sono al secondo giro quando mi hanno visto rientrare i più tristi erano proprio gli operatori carcerari e poi appunto da carcerati a pazienti ci prendiamo cura anche della loro salute le figure professionali che operano all'interno della struttura una squadra coesa che interagisce per il bene dell'intera comunità insomma oggi il secolo racconta questa realtà che spesso viene dimenticata parla anche Don Fausto Brioni che Don Franco Brione che è il appunto il cappellano del carcere Don Franco dice determinante il rapporto con chi lavora per riuscire a costruirsi un nuovo futuro fuori di qui le professore le prof dell'istituto tecnico hanno un dialogo continuo con gli studenti si aprono parlano arrivano le richieste appunto dicevamo questa è un po' la prima puntata di una serie di riunioni che appunto la redazione del secolo XIX farà fuori dai locali proprio del giornale per andare a incontrare realtà ce l'ha spiegato bene il responsabile della redazione chiaverese del secolo Roberto Pettinaroli vediamo insieme il servizio il giornale che esce dalla redazione si mette in ascolto del territorio va nelle periferie della società inizia dalla casa di reclusione di Chiavari il viaggio dell'edizione del Levante del secolo XIX tra le diverse voci che contribuiscono a rendere unica questa fetta di Liguria lo fa con i propri giornalisti la cui riunione di redazione quel momento operativo dove si imposta e prende forma quella che sarà l'edizione in edicola il giorno dopo si tiene fuori dalle stanze della propria sede l'avvio di questa iniziativa proprio da un luogo molto particolare il carcere l'abbiamo fatto oggi il 23 maggio nell'anniversario nel trenturnissimo anniversario della strage di Capaci perché quello è il luogo simbolo della rieducazione alla legalità e quindi ci sembrava significativo partire proprio da lì diciamo che l'incontro è stato molto frequentato molto partecipato perché c'erano tutte le componenti diciamo di questa comunità un po' anomala che noi siamo abituati a guardare da al di qua del muro con un atteggiamento un po' distratto a volte e invece sono emerse grandi potenzialità che ci sono all'interno della casa circondariale anche dal punto di vista della formazione e delle competenze che consentono poi a chi esce di tentare appunto quello che è il cardine della nostra costituzione per quello che riguarda la pena e cioè di reinserirsi nel contesto della società e quindi di riabilitarsi un viaggio quello della redazione del Levante che continuerà nelle prossime settimane con nuovi protagonisti ma anche portando con sé le urgenze e le tematiche incontrate in ciascuna tappa vissuta allora le mete sono diverse intanto come abbiamo detto dare voce a chi solitamente non ce l'ha poi insegnare a noi stessi un modo nuovo di lavorare che sia poi un modo vecchio di lavorare che è quello che ci hanno insegnato i nostri vecchi maestri cioè andare nei luoghi incontrare di persona la gente e poi porci ogni volta appunto degli obiettivi concreti da raggiungere di cui il giornale si farà carico fino a che non saranno ottenuti dei risultati concreti e questo per quello che riguarda la discussione che è emersa all'interno della casa circondariale di Chiavari si focalizzerà soprattutto su il progetto della genitorialità e quindi dell'esigenza di far capire all'opinione pubblica l'importanza che queste persone possano mantenere un legame con i loro cari con i loro familiari e poi il dopo carcere quindi il reinserimento nella società allora andiamo invece proprio nelle pagine del Levante del secolo XIX che riguardano altri argomenti e riprendiamo quella che abbiamo letto anche in prima pagina faceva anche un po' di ironia a Rapallo iniziano i preparativi per le feste di luglio d'altronde da tutte le parti iniziano i preparativi per le feste per cui non è una notizia però la notizia chiaramente è che è un ritorno alla grande delle feste dopo magari anni in cui ci sono state varie limitazioni per il covid Rapallo prepara le feste di luglio cantiere in porto fino a settembre partita nella raccolta di fondi dei sestieri di casa per casa sparate dai pontoni lo scalo non è ancora utilizzabile restauro del castello offerte al comune 28 ditte in lizza buste aperte ieri aggiudicazione provvisoria perché sapete che il castello all'interno delle opere del PNRR verrà ristrutturato dopo anche tanti anni in cui appunto il castello è stato anche sotto sequestro ricordate per quell'episodio che avvenne una folgorazione di un ragazzo nella spiaggetta sottostante il castello lì poi viene tutto transennato il castello stesso fu appunto requisito e non fu utilizzato per diverso tempo appunto dopo questa pagina dedicata proprio ai festeggiamenti luglio che comunque ci saranno tra una quarantina di giorni andiamo invece a parlare di qualcosa che avverrà tra poco tra pochissimi giorni cioè il ritorno nei seggi dei sestresi che dovranno decidere nel ballottaggio chi avere per sindaco ma anche per consiglieri perché poi sapete che poi il sindaco ha dei appunto premi di maggioranza e quindi la composizione del consiglio comunale dipende molto da chi vince le elezioni e quindi gli elettori dovranno scegliere andiamo a leggere oggi dal secolo XIX turno di pallottaggio chiamata alle urne per il 46% degli elettori assenti al primo giro Sesti Levante domenica 28 e lunedì 29 si tornerà ai seggi nelle liste comunali figurano anche 2934 residenti che si trovano all'estero e molti di loro non sono venuti a votare nella prima tornata si vota dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì e poi il secondo spoglio e poi naturalmente lo spoglio a partire dalle 15 però trattandosi di pallottaggi solitamente lo spoglio è molto veloce quindi in un'oretta un'oretta e mezza si dovrebbe sconoscere già il nome del nuovo sindaco tra Massucco appunto del centro-sinistra Marcello Massucco cento firme dal mondo del lavoro e delle associazioni Calabro spiega l'intesa a sostegno il candidato del centro-sinistra si mobilitano anche esponenti della cultura e poi Solinas l'impegno di Solinas attendo attento ai più deboli al bene comune della nostra città Muzio contro Repole Aglio nessuna mia falsità su Cada Matta insomma ci sono polemiche naturalmente che continuano in questi giorni ultimi giorni di campagna elettorale perché ricordiamo che poi la campagna elettorale si deve stoppare dopo domani in venerdì quindi oggi domani e venerdì sono gli ultimi tre giorni di campagna elettorale in vista dei ballottaggi a Sestri Levante riparliamo di un altro di quei temi che vengono debattuti molto in questi ultimi giorni queste ultime settimane da un mese e mezzo a questa parte cioè la possibile riapertura del tribunale a Chiavari ma dove verrà ubicato questo tribunale è il problema che adesso si pongono gli amministratori locali sappiamo che in comune c'è una commissione ad hoc presieduta tra l'altro da un esponente dell'opposizione allora andiamo a leggere insieme riapertura del tribunale rottura tra consiglieri sull'ordine del giorno appunto si parla del nuovo palazzo di Chiavari appunto e non tutti i consiglieri sono sono d'accordo su come andare avanti su questa situazione la commissione speciale che dovrebbe studiare un progetto per la riapertura del tribunale di Chiavari ha preso anzi ha perso i consiglieri di minoranza e il suo presidente Nicola Orecchia tutti si sono dimessi ieri dopo un incontro infuocato in cui l'ordine del giorno è stato comunque approvato a suoni maggioranza in Soldoni l'impasse era immaginabile sin dai primi incontri i consiglieri di minoranza appunto su quanto accaduto a Bassano del Grappa chiedono spazi certi prima di preparare un progetto la giunta invece vuole il contrario cioè prima il progetto e poi capire dove mettere il tribunale la nostra richiesta di reperire spazi in modo da preparare un progetto forte è rimasta senza risposta dice Nicola Orecchia che è stato presidente di questa commissione si è dimesso ieri il sindaco ci ha detto che gli spazi non erano un problema ora con un nuovo ordine del giorno si ribalta questa decisione ci viene chiesto di parlare con l'istituzione senza avere nemmeno l'idea di spazi certi il gioco è finito la minoranza fa un passo indietro invece di assumersi le proprie responsabilità ribatte invece la maggioranza appunto in consiglio comunale insomma anche questa situazione non ha riunito diciamo maggioranza e opposizione perché appunto la procedura di come andare avanti è stata molto molto dibattuta e come vedete ci sono delle visuali molto diverse da entrambe le parti allora andiamo invece a Portofino dove ieri si sono celebrati i funerali di Liliana Repetto vedova di Nannincini simbolo dell'Eccelsior di Portofino folla a Portofino per l'ultimo saluto a Liliana Repetto che aveva 87 anni cade anzi no cede la staccionata anziano precipita in un dirupo a Camogli al parco di Portofino insegnante cade ed è stata soccorsa e ha dovuto lasciare un po' la sua scolaresca che però è stata naturalmente presa in affido dalle guardie del parco e tutto è appunto accaduto in un punto del monte di Portofino vediamo questa staccionata che ha ceduto senza protezione soprattutto senza aspettarsi che accadesse un fatto simile l'uomo è precipitato per alcuni metri riportando un trauma cranica e facciale immediato l'intervento dei 118 dei militi della Croce Verde di Camogli l'ottantenne è stato trasportato in codice rosso al San Martino poi nel corso delle ore la situazione è fortunatamente migliorata resta un po' incredibile la dinamica dell'incidente la ricerca di un possibile malfunzionamento del cancello in legno la passerella di via Molfino era stata inaugurata il 20 giugno 2020 e congiunge il parcheggio di San Rocco con l'inizio dell'apitato va bene adesso andiamo invece a Sestri Levante al convegno all'annunziata della Baia del Silenzio Costituzione Legalità Sestri convegno appunto con Armando Spataro ex magistrato e procuratore di Torino Elisabetta Vidali della Corte d'Appello di Genova e vediamo appunto un momento di questo incontro vedo prontissimo dalla redazione il collega Maurizio Garrefa che oggi ci parlerà visto che abbiamo parlato anche di questa notizia che riguardava il parco di Portofino e ci parlerà proprio di parchi allora ci colleghiamo con lui buongiorno Maurizio buongiorno Marco un saluto a tutti oggi 24 maggio giornata dei parchi in particolar modo sul territorio della regione Liguria si svolge l'iniziativa maggio dei parchi con tante iniziative che sono state organizzate alcune sono già iniziate e concluse altre invece sono in corso e proseguiranno nei prossimi giorni sino a giugno c'è un ricco calendario di eventi che si può trovare naturalmente sulle home page dei singoli parchi ma che cosa sono oggi appunto i parchi naturali come sono considerati dalle persone che volano rappresentano per l'economia e anche che cosa si può fare di più per valorizzare questi parchi ne abbiamo parlato con Roberto Costa che è il presidente di Federparchi Liguria allora ascoltiamo un passaggio di questa intervista poi l'appuntamento come sempre al telegiornale in diretta e la linea poi può tornare a te Marco molto è cambiato per quanto riguarda come dire la percezione dell'opinione pubblica sui parchi ancora oggi c'è chi percepisce i parchi teniamoci come un vincolo esclusivamente come tale ma questo magari dipende anche da ciò che vuol fare chi in qualche modo considera i parchi certo se uno vuol fare delle cose che non si possono fare che poi sono abbastanza poche principalmente nei parchi all'interno delle aree protette non si può andare a caccia però i parchi possono fare selezione diciamo di specie in sovranumero come ad esempio i cinghiali e la fanno nei parchi non si può costruire al di là di quello che sono le previsioni dei piani regolatori dei comuni quindi basta rispettare i piani regolatori dei comuni e nei parchi praticamente si può fare di tutto nel rispetto ovviamente della natura le opportunità sono molte perché sono opportunità di conoscenza del territorio di frequentazione turistica del territorio e i dati nazionali ci dicono che questa frequentazione turistica nei parchi è in forte aumento anche perché nei parchi abbiamo i sentieri mantenuti e segnalati abbiamo itinerari appositi che le persone possono frequentare in tranquillità e in sicurezza quindi nei parchi si va si frequentano nei parchi si comprano i prodotti quindi si muove un'economia diciamo che se poi ci desse una mano anche diciamo a livello nazionale il ministero dell'ambiente che da parecchi anni diciamo ignora un pochino un articolo articolo 4 della legge 394 che prevede dei piani triennali anche i parchi regionali potrebbero godere sulla base diciamo di piani di condivisione di strategie di condivisione anche di contributi dal ministero dell'ambiente contributi di cui oggi godono solo i parchi nazionali allora parliamo proprio del parco di Portofino e ritorniamo sul secolo XIX di oggi ringraziando Maurizio Garefa dalla redazione ingegneria basata sulla natura a difesa del territorio fragile parco di Portofino presente ad Hamburgo gli esempi di paragge San Fruttuoso sono infatti presentati a Reconnect Project Horizon di Hamburgo vediamo qua appunto una bellissima foto sulla albazia di San Fruttuoso e poi ancora in cammino da Milano a Sestri è arrivata la comitiva dei Celti e poi cambiamo argomento e parliamo un po' di noi vabbè ieri lo abbiamo detto in diretta era il 23 maggio il 33esimo compleanno di Teleradiopace e in questa giornata Teleradiopace ha inaugurato un nuovo canale appunto dal secolo di oggi traguardo per l'emittente della diocesi chiavarese in onda sul 78 riprenderanno le news poi spazio cultura e intrattenimento inaugurato appunto il nuovo canale e ce ne ha parlato proprio ieri il nostro direttore Don Fausto Brioni questa volta ho azzeccato anche il nome e allora andiamo a vedere insieme appunto di che cosa si tratta era il 23 maggio del 1990 quando nasceva Telepace siamo a 33 anni di distanza e questo nostro compleanno lo festeggiamo con l'accensione di un nuovo canale nel digitale terrestre il canale 78 Telepace 3 lo trovate da oggi ed è possibile seguirlo in gran parte della regione esclusa la provincia di La Spezia Telepace continua al suo servizio vi chiediamo di sostenerci di continuare a dar voce a questo strumento a servizio di Dio e dell'uomo una parola che arriva nelle case di tutti una voce che porta la voce del Papa la voce della Chiesa la voce del Vangelo e la voce del territorio aiutateci e in questi anni vi abbiamo sentito vicini come speriamo noi di essere vicini a voi con questa nuova opportunità il canale 78 del digitale terrestre qualcuno di voi lo avrà già trovato e potete eventualmente fare una risintonizzazione se nella vostra area di servizio è raggiunto il segnale troverete un altro canale di telepaccio e poi sempre a disposizione di tutti con l'HBBTV la funzione nuova la possibilità di riceverci con anche altri canali della nostra emittente attraverso satellite visibile in tutta Europa continuate a sostenerci e noi vi saremo vicini sempre a maggio ma 11 anni prima nasceva a Chiavari Radio Aldebaran e sempre dal secolo XIX di oggi leggiamo Radio Aldebaran 44 anni come i gatti dello Zecchino e per festeggiare questo anniversario è stata anche effettuata una cartolina con i volti degli speaker e di coloro anche che lavorano un po' dietro le quinte di Radio Aldebaran e questa cartolina e questi cartoncini sono stati distribuiti nei negozi di Chiavari non solo e poi c'è anche un piccolo concorso legato a questo e appunto oggi lo leggiamo dal secolo XIX Ancora invece dalla stessa pagina Restauri di Villina e Campanile lavori degli ultimi anni a Rapallo le scelte operate dalla giuria Lions per il concorso Ama la tua città e poi ancora Criminalistica corso universitario al tiro a segno sinergia tra Ateneo e la società di Rapallo appunto del tiro a segno Ancora dal secolo XIX di oggi Gaslini insieme entrano 15 soci imprese in campo per raccogliere fondi naturalmente per il Gaslini grandi marchi e regioni avranno due consiglieri nel CDA Garrone condivideremo l'impegno di aiutare chi aiuta e poi parliamo anche di sport Entella Zeman rivincita verso la Serie B sfida col Pescara nei quarti dei playoff sarà il Pescara la squadra da battere in questo sabato e poi con il ritorno il 31 maggio a Chiavari Entella Zeman rivincita appunto qua vediamo la consiglia di una maglietta per i 75 anni del tecnico che ora guida il Pescara ma è stato un tecnico di moltissime squadre di Serie A l'anno scorso la Virtus eliminò il Foggia guidato dal Boemo proprio nel giorno del suo 75esimo compleanno insomma gli ha fatto gli auguri la maglietta ma poi gli ha fatto anche un bello scherzetto gara d'andata sabato in Abruzzo ritorno a Chiavari sarà il 31 di maggio nuovo a Formula Fantasia scelta vincente di Volpi con Ramirez Clemenza Meazzi Tomaselli bisognerà insomma vedere quale squadra metterà in campo l'allenatore per questa sfida e adesso vediamo quali sono invece gli appuntamenti di oggi nella nostra consueta agenda Gli appuntamenti di mercoledì 24 maggio alle 9.30 nel palazzo del municipio di Borzonasca si terrà la commemorazione del partigiano Raimondo Saverino sarà deposta una corona dall'oro poi la visita dei calchi sulla resistenza opera dell'artista partigiano Pollaiolo prende il via a Genova la B-Design Week le conferenze iniziano alle 14.30 con dalle smart city alle pure city dalle città pensate alle città pensanti in piazza Ferretto segue alle 15 in via San Bernardo 19 radical art la progettazione architettonica e il riutilizzo di scarti alle 16.45 sempre in piazza Ferretto cross love energia dell'arte e dell'arte partecipata alle 17.30 sempre in piazza Ferretto si parla di salute durante l'appuntamento design e salute umanizzare luoghi e strumenti per la cura infine alle ore 19.30 in via San Bernardo Enrico Natoli terrà una conferenza dal titolo corpo, luce, emozioni occasioni di vestire il corpo con il gioiello ispirandosi al passato in maniera innovativa il Soroptimist International Club di Guglio e l'istituto Nido San Girolamo di Rapallo hanno lavorato al progetto La città che vorrei alle ore 15 nell'istituto saranno presentati i lavori degli alunni e delle alunne delle classi dalla seconda alla quinta elementare per i corsi di cultura di Chiapri c'è una lezione di medicina con la professoressa Rosanna Vagge intitolata Ripensare il domani alle 16.15 nella sala livellara di Via del Pino all'istituto superiore degli scienze religiose Ligure di Genova in via Serra il professor Don Andrea Villafiorita dialoga con Gabriele Maria Corini e Luca Raspi autori del libro Sette domande scomode per il cristiano d'oggi Sette digressioni sul tema inizio alle ore 16.30 prosegue Codoledo la manifestazione dedicata alla storia all'arte di Cogoleto alle 16.30 nell'aula consigliare Marina Cavana e Alessandra Frondoni parlano di un frammento di arte bizantina il pluteo di Cogoleto per il maggio dei libri di Piazza Levante Paolo Donadoni presenta il suo libro Pianeta Futuro dialogando con il giornalista Alberto Bruzzone alle 18 Y Lab in via Gagliardo a Chiavari Allora scusate ma avevo ancora le notizie meteo qua sotto allora dicevo che prosegue la fase anticiclonica sulla nostra regione l'abbiamo detto già all'inizio vediamo che comunque la giornata è caratterizzata da tanta tanta foschia beh questa situazione è dovuta anche al fatto che alle nostre spalle comunque c'è ancora dell'instabilità nel corso della giornata avremo anche degli episodi ancora temporanei coraleschi soprattutto posizionati sulle Alpi Liguri ma su tutta la dorsale appenninica fino anche al nostro comparto aveto-trebbia mentre invece sulla costa la situazione rimarrà incentrata sul soleggiamento tutt'al più qualche passaggio nuvoloso ma non ci dovrebbero essere assolutamente sforamenti poi in serata lo dicevamo prima ancora in stabilità specialmente sulle zone appenniniche del centro ponente e anche sul resto del nord Italia dove non si esclude anche qualche fenomeno temporalesco ma ancora indenne la riviera venti prevalentemente regime di brezza con mare calmo temperature stazionarie le massime intorno ai 25 gradi per la giornata di domani 25 di maggio mercoledì vediamo se riusciamo a darla ecco no domani non è venerdì 25 insomma c'è un errore qua nella cartellonistica allora domani invece avremo una giornata caratterizzata da situazione diversa neanche tanto però avremo sempre meno instabilità ecco questa è la situazione che sarà caratteristica di domani e dei prossimi giorni quindi l'instabilità andrà diciamo un po' spegnendosi quindi un po' meno instabilità ma non è ancora esclusa nella giornata di giovedì per il resto cielo sereno poco nuvoloso con venti moderati da nord al mattino più deboli da sud nel pomeriggio mare poco mosso e temperature stazionarie io ringrazio alla regia Luigi Cano e Maurizio Garrefa in redazione ringrazio tutti voi per averci seguito vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione locale su Tele Radio Pace alle 12.45 con il nostro telegiornale la rassegna stampa torna anche domattina a 7.30 8.10 da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti grazie a tutti